E pap, dove hai vissuto dopo che sei sposato? A dove sei stato? Tu hai vissuto dopo che sei sposato? No, no. Dopo sposato? Hai vissuto. Arroz. Ok. Guarda, guarda. Tu e mamma, quando i figli voli a te, qual era la ragione? I figli ne avevamo nove, sono morto, ma io sono morto e io sono bevi. Perché il dottore aveva detto che mamma è stata sempre malata e per stare in paura aveva i figli. un dottore di bucci. Tu pensavi avere i figli? Qual era la ragione per avere i figli? Già l'ha detto veramente. La ragione è che mamma è stata buona. E quanto ne voleva avere? Basta, sì. Quattro massimo. Quanto tempo dopo ho sposato che volevi avere i figli? l'ho usato dopo nove mesi. L'ho usato dopo nove mesi. Non mi ricordo bene. E ho avuto frango. Ok. Perché hai voluto un figlio così subito? Perché avevamo due figli. Perché eravamo madre e moglie. Cioè che avevano i figli. Ti ricordi come erano le cose entro i nove mesi prima che il primo figlio fosse nato? Come? Ti ricordi come erano le cose entro i nove mesi che il primo figlio è nato? Eh, non mi ricordo bene ma che c'era disaccomazione a tutta carica. Insomma, era male condizioni. Quando hai saputo che mamma era incinta ti sei messo paura? Ancora ti hai paura. Ma quando l'ho lasciata un mese incinta è segnato a Napoli. Cioè a Napoli. Di permanente soldato. Soldato di permanente. Però tutto il giorno. Mamma era emozionata? E' emozionata. Che vuoi? Quando il marito e la moglie si uniscono. E poi uno si distacca. E' dispiacente tutti e due. Cosa pensavi? Che era maschio o era femmina? Eh. Guardate davanti era femmina. Guardate davanti era maschio. E questo. Che poi pensasse. Si intratta a panza. Si staccava e guardava. Come era la tua vita quando mamma era incinta? era soldato per... cioè era a Napoli soldato perché quando non si è venuta di permanente ancora mamma non era in ginda comunque non si è portato per volontario all'autocenna a Napoli lei era stata incinta da un mese dopo un mese sono congelato e dopo un mese è nato franco ok chi era il primo figlio e dove è nato? dove è nato? dove è morta la promenanda su Tassiga, il crugatoio era pericoloso quando i figli nascevano a Rose? come? era pericoloso quando i figli nascevano a Rose? non era pericoloso è che nascevano nessuno e volia ma nascevano non c'era la televisione che entra a mezzo un po' di... fa sbagare la nascita di Franco è stata pericolosa? come? no è nato a Venone chi è stato alla lavatrice? Carmegna Porco, la mamma è la cugetta Porco dove eri tu? di medico no no dove eri tu? dove eri? quando è nato Franco? ti ha detto Carmegna Porco? no no dove eri? a dove eri quando è nato Franco? a Rose, presente proprio quando nasce hai festeggiato? hai festeggiato che? è nato la notte e ho festeggiato che hai perso il suono ricordi qualcosa e hai veduto quando hai veduto Franco la prima volta? quando hai veduto Franco la prima volta? è nata la contendezza e poi è nato il mio figlio Massio il mio primo figlio ci hai fatto qualche foto? che ci hai fatto? che ci poteva fare? ci hai fatto un po' di catteggio? no no foto foto fotografie che c'è una foto? e chi ti donava la fotografia? chi ti donava la macchina fotografica? come erano le cose prima che è nato il secondo figlio dalle 36 al 39? per ogni cosa quando è nato il secondo figlio io ero già all'Africa Rondale ero soprattutto per l'Africa Rondale quanto tempo hai aspettato prima che è nato il secondo figlio? io ero già all'Africa Rondale e è nato da poco di quanto mese non mi ricordo non mi ricordo bene il perché hai deciso di avere il secondo figlio? come? il perché hai deciso di avere il secondo figlio? perché hai deciso di avere il secondo figlio? ti sforzi semplicemente la moglie e te li giri eh nascono e nascono pensate per fare abbastanza soldi per mettere mangiare sul tavolo? sì questo sì ma ciò che hai fatto mi donavano 51 giorni mi donavano 50 giorni mi donavano 50 giorni mi donavano 40 giorni e poi chi mi guadagnava io a fare un barbiere oppure a prendere qualcosa facerli capire alle barbiere e ai cucinieri e mi hanno fatto scrivere no è buonia buonia 10 dollari 10 dollari 11 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 dollari